State tutti quanti bene, ragazzi? Sì, sono solo stato sbalzato via dal vento. Balbassor. Questo villaggio è al sicuro finché c'è Balbassor in giro. Ash, non credi che Balbassor sarebbe un ottimo acquisto per la vostra squadra? Beh sì, questo è poco ma sicuro. Io credo che Balbassor dovrebbe venire con voi. Lui è rimasto al villaggio per proteggere i Pokémon più deboli, ma qua il suo bulbo non può svilupparsi. È un posto troppo piccolo e lui ha bisogno di esplorare il mondo per crescere. Io sono sicura che tu saprai prenderti cura di lui. Fammi questo piacere. Porta Balbassor con te nel tuo viaggio. So che sarà un buon compagno di avventure. Sì, ma che cosa ne sarà del villaggio senza Balbassor? Infatti, chi vi proteggerà poi? È vero, Balbassor ha fatto molto per me. Forse anche troppo. Ma vedete, i Pokémon non dovrebbero rimanere nel villaggio per tutta la vita. Una volta completamente guariti dovrebbero ripartire. Ma questo è un posto così sicuro e tranquillo che nessun Pokémon vuole lasciarlo. Non vogliono tornare nel mondo esterno. Ma io credo che sia importante che tutti loro tornino nella natura, perché è quello il loro mondo. E spero che trovino un giorno un buon allenatore come te, Ash. Naturalmente curare i Pokémon malati sarà sempre la mia missione. Ma la soddisfazione più grande per me è quando un Pokémon può finalmente tornare in libertà. Solo allora il mio compito può dirsi finito. Oh, Melanie, io... Quindi capisci anche tu che è tempo che Balbassor ci lasci. Portalo con te, per favore. Non ti sarà di peso, ti assicuro. Balbassor deve ancora crescere molto. Voglio che sia in un posto dove può crescere forte e felice. E so che quel posto è proprio con te, Ash. Beh, se vuoi davvero che sia io... Balbassor! Oh! Che cosa ti ha detto? Balbassor partirà con te solo a una condizione. Vuole confrontarsi con te combattendo un incontro. Dico bene, Balbassor. Balbassor! Ha! Se è un incontro che cerchi, lo avrai, amico. Ah! Lascia che sia io a battermi con Balbassor. Per favore, Antonio, ti prego! Non se ne fanno! Oh! Balbassor! Pikachu, vai, cominciamo! Balbassor! Balbassor! Pikachu, attento! Guarda avanti! Vai! Oh! Ah! 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 La frustrata è la massa speciale di Balbassor! Ah! 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 Reagisci, Pikachu! Vai col fulgine! Ah! Pikachu! E ora... Pokeball, vai! Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo Balbassor! Pi-Pikachu! Pi-Pikachu!